Buongiorno, buongiorno, benvenuti a Rassegnati, il podcast di Feff Academy. Rassegnati siamo noi tutti, a cui tocca tutti i giorni sorbirci la propaganda e l'informazione spesso pilotata e o incompetente dei nostri giornali mainstream. Io sono Matteo Bernabè, giornalista che per Feff Academy cura la sezione informativa. Questa è la rassegna stampa di venerdì 3 febbraio 2023. Un'altra settimana volge al termine, quindi siamo a ridosso del fine settimana e questo non può che farci piacere. Allora iniziamo, a differenza della lettura dei nostri quotidiani, allora iniziamo dalla prima pagina del Corriere della Sera che naturalmente anche oggi apre con la questione sullo spauracchio degli anarchici con il caso Donzelli e Nordio che dice non erano carte segrete quelle presentate dal deputato di Fratelli d'Italia e vabbè e quindi e anche oggi la nostra dose di questa roba qui la nostra dose di arma di distruzione di massa l'abbiamo avuta però gli altri giornali diciamo mainstream quasi tutti c'è da dire diciamo danno molto spazio alla questione del via libera dal governo all'autonomia differenziata sia l'autonomia il titolo del Corriere della Sera sia l'autonomia il titolo del Corriere della Sera ma le regioni si dividono. Meloni dice impegni mantenuti, il PD all'attacco approvato in Consiglio dei Ministri il DDL sull'autonomia differenziata messo a punto dal Ministro per gli Affari Regionali Roberto Calderoli la Premier Meloni scrive il Corriere impegni mantenuti ma è subito scontro anche con alcune regioni Salvini esulta Bonaccini bozza irricevibile così si spacca l'Italia e poi cosa prevede c'è un altro pezzo a diciamo a corredo di Marco Cremonesi misure e competenze che cosa cambia che cosa prevede l'autonomia differenziata quali competenze alle regioni ieri è stato fatto il primo passo ma ci vorrà almeno un anno con molti passaggi delicati prima che entri in vigore la nuova legge se poi mai entrerà in vigore anche perché diciamo che qui i governi durano come le foglie d'autunno sugli alberi quindi è tutto da vedere anche questa storia qui a me pare più che questa sia diciamo un contentino che Giorgia Meloni ha voluto dare a Salvini anche perché diciamo che in tema di competenze per esempio sulla sanità eccetera le regioni sono state abbastanza dotate da queste competenze e poi voglio riportare una risposta che dà Gianni Cuperlo che è uno dei candidati alla segreteria del PD che stamani mi sembra che almeno nelle ultime ore abbia diciamo secondo me centrato un po' il punto di tutta questa storia del dibattito sull'autonomia differenziata eccetera e dice Cuperlo che non mi sta per nulla simpatico diciamola tutta però su questa cosa sono abbastanza d'accordo nel senso che lui scrive tutti contro l'autonomia differenziata bene ma ricordiamoci che il titolo quinto si riferisce al titolo quinto della Costituzione venne votato dal centro-sinistra pensando a quel modo di sgambettare il federalismo secessionismo leghista da ora in poi evitiamo di offrire alla destra l'occasione di fare danni eccetera eccetera vabbè questo era l'intervento di Cuperlo che secondo me è stato uno di quelli che ha commentato più diciamo in maniera equilibrata in questo senso qua anche perché se oggi ci troviamo con sanità diverse tra regione e regione lo dobbiamo appunto a quella riforma del titolo quinto il cosiddetto insomma regionalismo che ha dato competenze importanti alle regioni e quindi anche questo ha aumentato quei divari che ci sono da regione a regione i trasferimenti da regione a regione per quanto riguarda le cure sanitarie certo tipo di cure sanitarie però purtroppo si parla anche delle cose un po' più diciamo gestibili che potrebbero essere gestibili a livello locale però diciamo che questa situazione queste decisioni hanno favorito invece questi diciamo queste migrazioni che soprattutto avvengono da sud verso nord ovviamente restiamo sulla prima del corriere in cui ho selezionato sostanzialmente una notizia che è relativa alle bollette del gas che caleranno del 34% ma poi questa notizia la riprenderemo però la cosa che volevo evidenziare qui è anche quella sulla BCE che ieri come previsto come avevamo detto ha alzato i tassi dello 0,50% quindi 50 punti base fino a portare al 2,5% quelli sui depositi la misura era attesa ma questo si traduce in un ulteriore aumento dei mutui dice il corriere ovviamente naturalmente perché ha un impatto diretto come abbiamo spiegato più volte bene le borse nuovo calo per il prezzo del gas ma questa notizia poi la riprendiamo sulla questione bollette ma anche BCE perché chiaramente sulle 24 ore gli dà diciamo un'evidenza molto maggiore come era diciamo come è comprensibile sulla prima di Repubblica anche qui titolone a 5 colonne su Repubblica sulla questione di cospito anarchici del Mastro e Donzelli e va bene ma non ce ne frega nulla sul colonnino di sinistra di destra sul diciamo nella parte alta della pagina la bici alza i tassi rata più salata per i mutui eh sì purtroppo questo è l'impatto diretto quindi continuiamo ad aumentare i tassi però ripeto che di questo ne riparliamo tra poco ne riparliamo più avanti partendo da quello che ha scritto il sole 24 ore l'altra cosa che volevo evidenziare sulla prima di Repubblica è la fotonotizia dedicata a Putin che ieri ha celebrato l'ottantesimo anniversario dalla battaglia di Stalingrado e ovviamente ovviamente il titolo recita Putin due punti aperte le virgolette Panzer contro la Russia abbiamo altro per rispondere su questa cosa volevo farvi notare un fatto che pochi giorni fa alla notizia che la Germania avrebbe inviato i Panzer i Leopard i Tank i carri armati a Kiev non si sa ancora se e quando saranno inviati però l'annuncio c'era stato avevamo detto guardate che questa roba di inviare i carri armati tedeschi all'Ucraina sarà utilizzata da Putin come un elemento di propaganda perché la propaganda chiaramente c'è anche là è un regime autoritario quindi figuriamoci se lì non vige la propaganda e come se vige come un po' qua da noi insomma quindi siamo siamo su due sponde opposte quindi la propaganda deve martellare diciamo su fronti opposti naturalmente quindi dicevamo dicevamo occhio che Putin potrebbe utilizzare l'elemento dei carri armati tedeschi donati all'Ucraina come un elemento di propaganda per poter dire avete visto abbiamo combattuto i nazisti nella seconda guerra mondiale e ora continuiamo a combattere i nazisti che tra l'altro i nazisti ucraini che tra l'altro sono aiutati dai carri armati tedeschi dai carri armati tedeschi che hanno stampato sulla loro fiancata la croce insomma una tipologia di croce che veniva utilizzata anche all'epoca della seconda guerra mondiale sui carri armati tedeschi non sto parlando della svastica della croce uncinata è un altro tipo di croce che ha un nome particolare che adesso non ricordo però dicevamo questo e infatti ieri Putin che cosa ha il discorso di Putin ha diciamo appuntato anche su questo aspetto e poi poi sulla questione Russia e sanzioni eccetera volevo anche dirvi ovviamente delle volevo riportare anche una notizia che è uscita su Repubblica sul sito di Repubblica che però non ha trovato spazio sulle prime pagine ovviamente neanche nei telegiornali perché di queste notizie non se ne sono sentite negli ultimi giorni ed è quella che relativamente che le sanzioni di fatto non stanno funzionando l'abbiamo insomma l'abbiamo detto in tutte le salse abbiamo fatto anche dei video sul fatto che le sanzioni tra virgolette funzionano prendendo in giro tutti quelli che dicevano che le sanzioni funzionavano abbiamo visto pochi giorni fa come fa la Russia ad aggirare i blocchi gli embarghi vari sul petrolio eccetera eccetera a proposito occhio che dal 5 di febbraio scatta l'embargo sui prodotti raffinati derivati dal petrolio quindi benzina e diesel soprattutto dalla Russia quindi anche lì vedremo se ci sarà un impatto effettivo sul costo dei carburanti della benzina e del diesel o meno anche perché il modo la Russia di aggirare queste sanzioni questi embarghi eccetera l'ha trovato ma anche perché non è vero è una balla totale che la Russia sia isolata non è vero ci sono paesi anche all'interno della Nato come la Turchia che sta di fatto aiutando la Russia anche in questo senso qua e arriviamo a quella notizia che volevo dire legata alle sanzioni chip e ricambi recita il titolo un articolo uscito sul sul sito di Repubblica chip e ricambi in Russia arriva di tutto adesso le sanzioni non mordono più adesso le sanzioni non mordono più perché prima mordevano prima mordevano ma mordono ancora su questo fronte su questo lato dell'Europa sul nostro lato dell'Europa non sull'altro il fondo monetario internazionale scrive il sottotitolo di questo articolo di Repubblica rivede le stime di crescita certifica la graduale ripresa dell'economia russa Cina India Turchia ed ex repubbliche sovietiche ecco i paesi che aiutano ad aggirare il blocco occidentale delle merci nessuno 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 pone al centro il fatto che la Turchia è un paese della Nato è un paese della Nato ok è per questo che dicevo che diciamo le notizie che arrivano sono manipolate nel senso che quando ci dicono e ci fanno sembrare ci descrivono una situazione idilliaca tra i paesi Nato non è assolutamente così c'è divisione ed è un po' anche per questo il motivo per cui diciamo si sta si stanno facendo tanti annunci nei confronti dell'Ucraina però di fatti poi ce ne sono non ce ne sono molti insomma da quel punto di vista lì nel senso che tornando alla questione carri armati eccetera armi eccetera è chiaro che non si stanno stanno facendo tanti annunci però di armi quelle che sono state appunto annunciate ne stanno arrivando ne stanno arrivando poche passiamo sulla prima della stampa che anche qui si parla dell'autonomia regionale via l'autonomia regionale il titolo principale i medici dicono così salta la sanità come se la sanità non fosse ancora non fosse mai saltata in Italia ieri sera c'era al 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 tg5 mi pare si al tg5 hanno dato la notizia uno dei pochi telegiornali pochi media mainstream ad averla data che quella notizia che aveva riportato ieri la stampa in piccolo in prima pagina che riguardava il fatto che due milioni e mezzo di esami oncologici sono saltati ok e hanno intervistato un medico insomma di primo piano ora non ricordo il nome che diceva appunto che il problema non è solo diciamo legato al diciamo a quello che è successo con l'emergenza legata al covid e tutto ma perché mancano i fondi della sanità sostanzialmente mancano gli investimenti in sanità mancano le assunzioni in sanità nella sanità pubblica eh manca questa roba qui quindi quando si dice via l'autonomia regionale i medici così salta la sanità la sanità è già saltata è già saltata da quel pezzo eh vabbè quindi vabbè sono d'accordo poi sul sottotitolo qui sulla stampa che dice il governo accontenta la Lega Salvini esulta ma c'è l'incognita delle risorse appunto c'è l'incognita delle risorse qui si fa sempre un discorso economicista che mette al centro di tutto il denaro cosa che non dovrebbe essere per un governo l'abbiamo spiegato più volte il perché ho fatto un video specifico sul ponte dove ho utilizzato il ponte sullo stretto di Messina come diciamo scusa per poter parlare di questa questione e quindi chi è interessato se lo può andare a recuperare un video di un paio di mesi fa penso sì un paio di mesi fa mi pare proprio dedicato al ponte sullo stretto di Messina e su questa logica economicista nel valutare l'utilità o meno di un'opera ok di un'opera o di un intervento necessario di un investimento necessario quindi qui mancano medici mancano infermieri mancano investimenti in sanità le liste d'attesa sono sempre più lunghe quindi governo date una mossa date una mossa perché agli italiani dell'autonomia regionale non gliene frega nulla di fatto ok come sulla questione degli anarchici agli italiani interessa che quando vanno a prendere l'appuntamento per un esame l'appuntamento gli venga dato il giorno dopo come avviene nel settore privato ok ecco e non aspettare 2, 3, 4, 5 mesi un anno e passa ecco passiamo sulla prima del sole 24 ore dove avevamo detto di dedicare un po' di tempo alla questione degli annunci della BCE BCE 2 punti tassi più 0,50% con replica marzo e il titolo borse in rialzo perché vedono la fine della stretta infatti diciamo che ieri l'intervento della Lagarde è stato capito in qualche modo infatti Donato Masciandaro commenta dicendo questa volta Lagarde si è fatta capire ovviamente perché le altre volte non era andata benissimo non era andata benissimo diciamo così la BCE ha alzato dello 0,5% i tre tassi di riferimento della zona euro come ampiamente previsto e preannunciato dalla presidente Christine Lagarde già a dicembre decisione identica infatti questo ci fa capire un po' come sono le dinamiche nei mercati nel senso che questo rialzo era atteso e per questo che diciamo le borse hanno reagito invece positivamente perché era una cosa attesa se chiaramente diceva il rialzo è di un punto percentuale non di mezzo punto percentuale chiaramente le borse avrebbero reagito male le attese però dicevano già così quindi le borse si erano già in qualche modo assestate su quel dato e poi è stato apprezzato il fatto come diceva come dice il titolo qua che si è parlato anche di un rialzo dei tassi a marzo però è stato piuttosto accomodante il discorso della Lagarde e quindi questo ha fatto intravedere la fine di questo aumento dei tassi e questo è stato apprezzato dai mercati infatti le borse sono aumentate ieri decisione identica a quella della BCE è stata presa dalla Bank of England la banca centrale del Regno Unito che ha portato il costo del denaro al 4% il massimo da 14 anni la banca centrale europea dunque mantiene la rotta con determinazione e questo mantiene la rotta con determinazione riportato tra virgolette riportando appunto le parole della Lagarde ma da ieri con una postura un po' più morbida e questo perché i rischi per le prospettive di inflazione e crescita sono più equilibrati a sorpresa ha annunciato anche l'intenzione di innalzare i tassi di un altro 0,5% a marzo ma in vista della prossima riunione il board si è detto pronto a valutare la successiva evoluzione della nostra politica monetaria e questo è il fatto che è stato più o meno apprezzato non è stato detto continueremo continueremo su questa linea avanti così come la Lagarde aveva fatto nei mesi precedenti qui il board si è detto pronto a valutare la successiva evoluzione della politica monetaria che andrà in base appunto a quello che è che dovrebbe essere il contesto economico ok contesto macroeconomico la novità semi nascosta nel comunicato poi dice il sole insieme alla chiarezza sulla prossima mossa è piaciuta ai mercati che hanno festeggiato tutto in forte rialzo le borse europee rendimenti e il BTP decennale in caduta di 40 punti base però c'è da dire il risvolto della medaglia che comunque chi ha un mutuo un finanziamento un finanziamento in essere a tasso variabile naturalmente avrà purtroppo dovrà vedere un aumento ancora delle proprie rate delle proprie rate l'altra cosa sulla questione autonomia differenziata riguarda riguarda lo riporta sul colonnino di destra sulla prima pagina del Corriere primo via libera in consiglio dei ministri alla legge quadro sull'autonomia differenziata i livelli essenziali dei servizi andranno finanziati prima del trasferimento di funzioni alle regioni anche qui è tutto in divenire vedremo se e come andrà a finire questa storia non c'è nulla di certo come dicevamo all'inizio l'altra cosa relativa al gas una buona notizia meno male gas Arera taglia le bollette di gennaio del 34,2% dopo l'incremento di inizio gennaio della bolletta del gas le famiglie italiane ancora in tutela rifiatano grazie al calo del 34,2% comunicato ieri dalla Rera e relativo ai consumi di gennaio alla discesa arriva a valle dell'ultimo livello individuato per il prezzo della materia prima fissato in 68,37 euro per megawattora lo dicevamo ieri su questa su questa questione su questa questione della delle bollette del gas insomma del prezzo del gas e che sostanzialmente il prezzo del gas e come avevamo già detto insomma con Antonio Rizzo nostro amico esperto di questioni energetiche il prezzo del gas si è ridotto sensibilmente da un certo punto di vista perché l'inverno fino a questo momento non è stato per nulla freddo e dall'altro purtroppo c'è stato un calo sensibile dei consumi intorno al 10% negli ultimi tempi quindi diciamo che anche questo anche questo cioè questo soprattutto ha influito perché chiaramente se c'è meno consumo meno richiesta il prezzo cala naturalmente poi sulla questione telecom il sole 24 ore dedica la fotonotizia alla telecom e alla la rete soprattutto della telecom definita insomma strategica da dal governo di Giorgia Meloni come asset strategico da tutelare vedremo come sarà tutelato perché ieri è arrivata questa offerta da parte del fondo KKR il fondo americano fondio statunitense che aveva già presentato a fine 2021 un'offerta per telecom in quel caso per tutta la società in questo caso sembra interessato il fondo statunitense alla società della rete del gruppo detta Netco Netco circa 20 miliardi l'offerta sarebbe non vincolante il CDA di Tim ha deciso di riunirsi nuovamente il 24 febbraio il governo diciamo invita alla prudenza in questo senso qui anche perché il governo dovrà decidere sostanzialmente in mano sua la palla visto che la rete telecom è strategica è un asset strategico e per questo ricade sotto la normativa del golden power che è questa normativa italiana appunto che dovrebbe tutelare gli asset e le società strategiche le attività strategiche dell'Italia quindi il governo bisognerà vedere che cosa farà c'è anche l'ipotesi che è emersa nelle ultime ore che il governo possa diciamo così utilizzare una società statale da affiancare a KKR nell'operazione che porterà insomma al distacco in qualche modo della rete dell'infrastruttura di rete fissa della telecom vedremo 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 andiamo sulla prima del messaggero ci sono due notizie secondo me da evidenziare tornando alla questione del gas la notizia è riportata queste due notizie sono riportate nel taglio alto della pagina in due box in evidenza una riguarda il gas ora la bolletta scende il 34% un risparmio di 700 euro a famiglia ecco questo è il dato in più che volevo aggiungere un calo che però purtroppo non compensa ancora gli aumenti dell'autunno evidenza giustamente il messaggero il taglio chiaramente di 700 euro sarebbe diciamo in proiezione annua ovviamente sono 700 euro medi a nucleo familiare però questo questo taglio diciamo abbassamento non compensa gli aumenti ancora vedremo sono piuttosto pessimista da questo punto di vista anche perché diciamo che il governo non è che diciamo si sia stracciato le vesti per poter andare in aiuto in questo senso qua e l'abbiamo detto insomma con un tasso ma lo puoi vedere benissimo anche sulla questione del tasso di inflazione il taglio del cuneo fiscale il tasso di inflazione viaggia praticamente a doppia cifra il taglio del cuneo fiscale intorno al 3-4-5% quindi insomma non si va a compensare questi questi aumenti purtroppo l'altra cosa che ho selezionato che nessun altro giornale ha riportato è relativo alla questione della guerra in Ucraina a Mosca il 20% del territorio ucraino è un virgolettato e il titolo dice Kiev respinge il piano di pace della CIA sì perché questo virgolettato che è stato è tratto da un sembra un piano di pace segreto studiato dalla CIA dalla CIA gli servizi segreti americani un piano di pace segreto studiato dalla CIA riporta il messaggero che però trova l'ostilità di Kiev e cosa non potevamo aspettarci altro naturalmente anche perché questo comporterebbe un'apertura delle trattative con Mosca che Kiev che Zelensky il governo di Zelensky ha vietato per legge di fatto a Mosca il 20% del territorio ucraino Zelensky lo respinge e rilancia in vista del 24 febbraio anniversario dell'inversione del 2022 per l'occasione la Russia starebbe preparando un'offensiva nel Donbass ieri von der Leyen a Kiev da Zelensky infatti la presidente della commissione europea è andata da Zelensky gli ha dato due pacche sulla spalla gli ha detto si si vabbè vedremo se potrai entrare nell'unione europea e va bene e lì è finita come dicevamo peraltro ieri anche di questo di questo fatto qua andiamo sulla prima del fatto quotidiano dove ho selezionato tre notizie la prima chiaramente da molto spazio come fotonotizia ma anche come titolone di apertura relativamente alla questione dell'autonomia differenziata spappolano l'Italia il titolo aggirando il Parlamento il regalo di Meloni a Salvini poi basterà un DPCM approvato dal CDM in tempo per il voto per il voto delle elezioni regionali perché lo ricordiamo non questo weekend ma il prossimo fine settimana prossima domenica si voterà nel Lazio e in Lombardia per il rinnovo del consiglio regionale e quindi dell'elezione del presidente della regione e quindi il riferimento al voto è quello approvato dal CDM in tempo per il voto ora fanno tutto governo e regioni dice il fatto quotidiano vabbè vedremo come andrà anche questa storia sembra appunto più un regalo un po' di facciata di Meloni a Salvini come dice qui il fatto e poi sulla questione dei maxi profitti delle compagnie energetiche i big del petrolio ingrassano sulla guerra 200 miliardi di utili ma nessuno li tocca per aiutare chi ci rimette eh sì è vero anche questo è vero anche questo le major volano grazie a prezzi gonfiati dal conflitto Exxon più un 142% rispetto al 2021 Chevron Shell e Shell più 100% il 23 febbraio tocca all'ENI attesi 13,4 miliardi di euro eh di utile eh più 120% quindi vedremo vedremo anche ENI che cosa succederà su quel fronte lì eh 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 di ENI peraltro mi viene in mente una cosa che non avevamo su cui non avevamo dato molta enfasi nei giorni scorsi sulla questione gas eh ne avevamo parlato con Antonio Rizzo e lui aveva detto ci aveva detto sostanzialmente che ENI che il governo non sa non sa eh che sembra incredibile perché ENI è una partecipata dello Stato quindi dovrebbe essere al corrente del governo ma il governo non sa ufficialmente almeno a quanto eh ENI acquista il gas il prezzo del gas che eh viene diciamo fatto a ENI per l'acquisto per l'importazione del gas non è conosciuto dal governo e questo è abbastanza incredibile se poi vuoi fare no una politica una politica energetica eh diciamo con cognizione di causa dovresti saperlo quanto acquista il gas la tua società no la tua società diciamo principale la tua società energetica principale e invece questo non non avviene l'altra cosa l'altro commento del fatto quotidiano che ho selezionato riguarda la notizia che riporta il titoletto riportato sopra la testata dove si parla di 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 BCE e gli dà un taglio secondo me interessante nel senso che scrive il fatto quotidiano nonostante si riduca l'allarme sull'inflazione la BCE rialza i tassi di interesse è un pizzino i governi perché mantengano l'austerità e la finiscano con i sussidi ecco anche questo è un aspetto effettivamente che andrebbe che andrebbe considerato e valutato ma lo mettiamo lì chiudiamo con la verità anche oggi la verità apre su questa storia dei degli anarchici donzelli del Mastro PD documenti citati che non erano segretati eccetera eccetera vabbè non ci interessa ho selezionato però due notizie centropagina non rendono abbastanza e una la scomparsa dei farmaci non rendono abbastanza la scomparsa dei farmaci ormai ne mancano più di 3200 e l'inflazione fa abbandonare la produzione dei generici i farmaci sono carenti sono diventati oltre 3200 per sopperire alla mancanza il ministro Schillacci invita a usare i generici che però sono introvabili scrive la verità a causa anche dell'inflazione l'aumento dei costi di trasporto materie prime ed energia ne ha infatti reso insostenibile la produzione per le case farmaceutiche ora non so se avete avuto bisogno nell'ultimo periodo spero di no naturalmente io per esempio ho avuto bisogno di alcuni farmaci che però in farmacia non ho trovato erano farmaci banali farmaci per curare sostanzialmente l'influenza a volte c'è da dire che però in qualche caso dei farmaci generici li ho trovati li ho trovati però pare che questo sia comunque un problema più diciamo di livello nazionale un po' più generalizzato gli esodati del 110% invece è l'altro titolo un danno da 15 miliardi sull'edilizia pesa una massa di crediti che nessuno vuole o può più comprare in pericolo 25 mila imprese che è quella notizia che dava ieri il sole 24 ore in prima pagina che abbiamo visto però la vogliamo ribadire qui anche sulla verità perché secondo me è una cosa che il governo dovrebbe ben attenzionare e darsi una mossa e darsi una mossa è arrivato e finalmente è arrivato anche sulle pagine il sole 24 ore allarme che lanciamo ormai due anni e mezzo fa a proposito dei crediti di imposta per i bonus edilizi sono fermi 15 miliardi di crediti che nessuno vuole o può comprare sono a rischio 25 mila imprese dell'edilizia quindi governo datti una mossa bene mi sembra che non ci sia altro da aggiungere questa era la rassegna stampa di venerdì 3 febbraio 2023 da Matteo Bernabè un buon fine settimana a tutti e una buona giornata ovviamente grazie a tutti grazie a tutti Grazie a tutti.